In questo modello non sono state ancora inserite le luci, ma c'è solo una luce di default e la si può vedere da questo effetto di riflessione. Quindi vediamo di inserire le luci. Noi possiamo avere una luce puntiforme, una luce distante che corrisponde al sole e una luce spotlight. Inseriamo la luce puntiforme, nuovo, per prima cosa diamo il nome alla luce, chiamiamo P1, puntiforme, modifica, con modifica si inserisce la luce. Notare che quando sposto lo zoom perdo il rendering perché è puramente una proiezione. Quindi punto di luce, la tecnica in questo caso è punto XY di, ed ho un punto centrale, notare l'UCS è sul piano, quindi XY è sul piano di appoggio del tavolo, manca la Z ed ho un'altezza di circa 150. Mostra, mi dà le coordinate o modifica ancora, mi dice esattamente dove è la posizione della luce. In questo caso è abbastanza vicina, quindi modifico, ripeto punto XY di, ad esempio, questo punto per essere più preciso, 00 e altezza 250. Quindi adesso la luce sarà un po' più lontana, come si può vedere. L'intensità, do un'intensità media, quindi se va a 960 do un'intensità di un terzo, 300 circa, e con OK confermo. Spotlight. Creo una nuova luce, Spotlight, che chiamo Spot1, modifica. A questo punto mi chiede, due punti, ovviamente c'è un vettore, qual è la destinazione a questo punto, do 00 per semplicità, e qual è il punto di luce. Quindi ripeto sempre, punto XY di, ricordo che sono sul piano, quindi di questo punto, con altezza 250. modifica. Con modifica vedo dov'è la direzione destinazione, quindi, ad esempio, questa è la posizione e questa è la destinazione. Confermo. Anche questo, intensità un terzo. OK. Voglio aggiungere una terza luce, che è una luce distante, nuova, chiamerò D1 e questa posizione è relativa al nord, che corrisponde alla Y, l'asse Y dell'UCS, quindi confermo la situazione attuale. Quindi, OK, posso cambiare l'intensità che è effettivamente 1 al massimo, quindi do un punto medio, altrimenti avrei una sovrailluminazione di tutta la scena. Da ultimo controllo l'intensità della luce circostante, che è quella che si potrebbe chiamare la luce albedo, cioè la luce che illumina tutta la scena e la posiziono in una intensità medio-bassa. Confermo e a questo punto rilancio il rendering. Come si può vedere, la mia scena è sovrailluminata, quindi ha un'illuminazione troppo intensa, quindi abbasso un po' tutte le luci, quindi più 1 che ha puntiforme, lo abbasso di molto, lo spot modifico, ma modifico anche l'area di illuminazione intensa, questa è illuminazione di caduta, quindi allargo il cono di illuminazione, diminuisco l'intensità, OK, e a questo punto anche la luce distante diminuisco l'intensità della luce distante, OK, e OK. Il piano in effetti ha un effetto di specchio troppo intenso, che poi cambierò. ecco, faccio uno zoom e adesso la scena è sicuramente più realistica. Ecco, allora modificando tutti questi parametri si possono modificare le texture, si possono modificare anche l'effetto di contrasto dei solidi, l'effetto di specularità e soprattutto anche l'effetto di illuminazione, lavorando sulle varie luci. come tocco finale di questo vogliamo aggiungere al wood un effetto bumping, cioè di contrasto, aggiungendo la stessa texture, quindi copiamo il nome del file tech dal colore, lo inseriamo nel contrasto, con un effetto molto basso, 0,2, e con una mappa, per esempio, doppia, rispetto alla mappa del colore. vediamo l'effetto sul render finale, ecco, come si può vedere l'effetto è abbastanza pronunciato, quindi vediamo di ridurre il contrasto a un valore che è quello di 0,2, il colore modello è sempre 1 e il nome del file è sempre lo stesso. adesso abbiamo semplicemente ridotto il missaggio, cioè l'intensità di bumping. Il risultato è decisamente più attenuato e l'effetto è anche più realistico. Come si può vedere abbiamo applicato adesso l'effetto bumping, cioè di contrasto, anche al tavolo, quindi alla superficie in legno tech sul quale si appoggia la nostra teiera.